Amen. Desidero nel tempo a nostra disposizione, senza tediarvi molto, ma con un unico desiderio di incoraggiarvi in una direzione che questa sera abbiamo già ascoltato dalle preghiere, dai canti, ma soprattutto abbiamo vissuto nella preghiera. E mi riferisco alla preghiera che ebbe a fare una donna, che tutti voi ben conoscete, essendo questa donna la mamma del primo profeta, ossia la mamma di Samuele. Mi riferisco alla preghiera di Anna. Tutti quanti, o almeno spero la maggior parte di noi, conosce la storia di questa donna che è raccontata nelle prime pagine del primo libro appunto di Samuele, dove si parla di un certo Elcana, figlio di un certo Yeoran, che aveva appunto per moglie questa Anna. E aveva una moglie che era sterile, da cui non riusciva ad avere figli. Ma al tempo c'era l'usanza in Israele della poligamia. E questo Elcana aveva anche una seconda moglie, il cui nome era Penin è che le aveva dato un figlio. Per cui Elcana non sentiva il bisogno di diventare padre perché lo era di fatto. Anna invece è una donna che vuole diventare madre e non riesce ad avere questa gioia. Io non vi voglio parlare di sterilità, di problemi coniugali, della difficoltà di relazione tra un uomo e una donna. Tanto questo è pane di tutti i giorni. Ciascuno di voi potrebbe salire qua sopra e venire a parlare di quelli che sono i problemi di coppia, di come è facile andare d'accordo, di come è difficile divorziare, di come è difficile risposarsi e divorziare un'altra volta, di come certe cose non accadono mai. Perché qui tutti siamo delle coppie felici, delle famiglie felici, tutto funziona bene? Non è così. Nessuno di voi se la sente di venire qui e venire a fare una terapia familiare. io mi accorgo di una cosa, che l'essere umano è talmente testardo e insanabilmente malato che nonostante sbagli non impara dai suoi errori. È pur vero che alcuni proverbi ci hanno detto che sbagliando si impara. Però qualcun altro ha detto che perseverare nell'errore è diabolico. Io ho difficoltà a dire a dei credenti nati di nuovo che fanno sempre gli stessi errori e non riesci ad imparare. Allora mettiamo da parte questi discorsi, togliamoci le castagne dal fuoco e concentriamoci su quello che è l'atteggiamento di Anna perché è di quello che vorrei parlare con voi. è vero che Anna è una donna con un problema, che è quello della sterilità, ma ciascuno di noi ha il suo problema e se qualcuno di voi ha un suo problema rallegrati perché ne hai uno solo. E a me capita spesso quando qualcuno mi incontro e ci vediamo, sai ho un problema e ci dico subito, prima di raccontarmelo, se è solo questo rallegrati perché ne hai uno solo. E prima di raccontarlo pensa che ce ne sono altri che ne hanno molti, ma molti più di questo. Però noi tendiamo a vedere sempre le nostre cose enormi, giganti. Siamo megalomani nel bene, ma soprattutto nel male. I nostri problemi sono catastrofi, le nostre disgrazie sono cataclismi naturali. Quello che invece succede agli altri, eh... Quando poi la stessa cosa accade a noi, eh, se sapesse... Anna è una donna che vive nell'amarezza, perché racconta il suo problema al marito, ma il marito pur cercando di capirlo, non riesce a capirlo. Perché c'è una moglie che è sterile e lui, da buon marito, gli dice, ma non ti basto io. Dice, ma... Scusa, ma sei il marito o sei il mio figlio? Ecco la dimostrazione di cui le donne sono convintissime. Fratelli, è vero. Gli uomini non capiscono le donne. Ed è per questo che ce le sposiamo. L'uomo più bravo, il marito più efficace, faccia i conti con questo. Che almeno una volta al giorno si senta dire da sua moglie, tu non mi capisci. Non è vero? Confermano le donne o confermano gli uomini? O tutte e due? Poverino chi? Ah, in genere... No, la verità è che l'amore è grande. E i fratelli preferiscono non parlare. Anna, non compresa dal marito, ha la forza di trovare il suo rifugio in Dio. Ecco di cosa vi voglio parlare. Della forza di trovare il rifugio in Dio. Non nascondersi nella preghiera. Perché a volte quando le cose non funzionano bene, qualcuno più bravo ha come consiglio classico, fratelli, sorelle, prega. Che il modo per dire il problema è tuo, te lo devi risolvere da solo, è il Signore. Io non posso fare niente per te, quindi non perdere tempo con me, datti alla preghiera. Visto che l'unico che ti può rispondere ed esaudire è il Signore. E Anna capì questa cosa dalle parole del marito e andò ai piedi dell'Eterno, dove venne fraintesa anche dal sacerdote al Tempio. Però questa è un'altra meditazione. Io vi voglio parlare del verso 11 del capitolo primo. Quando Anna amareggiata va al tabernacolo e lì eleva questa preghiera al Signore. Primo libro di Samuele, capitolo 1, verso 11. Poi fece un voto dicendo «O Eterno degli eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Che preghiera fa Anna? Dice Signore tu conosci il mio problema, io voglio un figlio. Se tu mi hai ascoltato, se tu mi hai compresa, se tu mi esaudisci, se tu me lo dai questo figlio così come me lo dai, è una piccola preghiera o è una grande preghiera? Lo voleva o non lo voleva il figlio Anna? Voleva un figlio o voleva solo la soddisfazione di diventare mamma? voleva non sentirsi mancante rispetto all'altra moglie di suo marito, voleva essere come Penin, voleva essere una donna non più sterile. Però questo era il suo problema, noi abbiamo il nostro problema, abbiamo i nostri problemi. la preghiera di Anna e la preghiera di chi dice al Signore io ho questa difficoltà, facciamo un patto, se tu vuoi risolvermelo, così come me lo risolvi, io ti restituisco tutto quanto. Voglio solo vedere se tu sei fedele nei miei confronti, se la tua parola è vera, se quello che tu dici lo mantieni. E quando io riflettevo su queste parole ricordavo una preghiera simile, ma che era successiva all'aver avuto. La preghiera di un uomo che prima di andare a morire, guardando a quello che negli anni che aveva vissuto sulla Terra aveva compiuto, alza gli occhi al cielo e dice al Padre io ti ringrazio perché così come tu me li hai dati, io te li ridò. Sto parlando di Gesù che aveva ricevuto in eredità per quello che aveva accettato di compiere, ossia morire per i peccati dell'umanità, aveva ricevuto coloro che avevano creduto in Lui. E Gesù dice al Padre così come li hai dati a me, io te li restituisco, te li riconsegno, a dire non sono i miei, ma ti appartengono. Ed io credo che questa è la dimostrazione da parte di chi ha fede nel Signore di riuscire a riconoscere che tutto ciò che Dio ci dona sia in termini materiali, sia in termini spirituali, non è proprietà nostra, ma appartiene al Signore. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo parla di noi come degli amministratori delle cose di Dio. Nessuno di noi è proprietario di nulla, a cominciare dalla nostra esistenza. Quante volte erroneamente diciamo la mia vita, la vita che Dio mi ha donato, il mio lavoro, il lavoro che Dio ci ha donato, la mia famiglia, la famiglia che Dio ci ha donato, sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. E il credente, l'uomo, la donna di fede, deve imparare a ritenere che ciò che passa nelle sue mani procede dal Signore. e Anna desidera questo, dice, tu me lo dai, io te lo ridò. E non lo dà al Signore in maniera semplice, un figlio maschio. Poteva nascere femmina, però lei crede, se tu me lo dai, mi darai un maschio, perché io voglio che questo maschio sia consacrato a te dai primi giorni della sua vita, ossia il rasoio non passerà sulla sua testa. Potete leggere quella che è la legge del nazireato al capitolo 6 dei numeri. Sta parlando di consacrare suo figlio. E questo vuol dire per noi che quando riconosciamo che ciò che amministriamo viene da Dio, noi dovremmo avere la fede di consacrarlo al Signore. Se abbiamo risorse economiche, queste risorse non devono essere spese per cosa che hanno a che fare con il peccato. Non devono finanziare mercati illeciti. Se parliamo di famiglia, quella che il Signore ci ha donato, noi la dobbiamo custodire gelosamente e far sì che nessuna ombra di peccato entri. Consacrare vuol dire dare soltanto a Dio. Far sì che quel che abbiamo appartenga al Signore e non può qualcosa che appartiene al Signore onorare l'avversario di Dio. Non possiamo con un dono della nostra esistenza benedire il nome del Signore quando quello che diamo al Signore è frutto di azioni illecite, di mercati illeciti, di cose disoneste. consacrazione. È facile la fede a buon mercato, Signore ho bisogno di una guarigione, Signore ho questo problema intervinto. La preghiera è qualcosa di diverso. La preghiera è sedersi e chiacchierare con Dio e fare un patto con Dio. io vorrei andando alla conclusione sfidarvi a fare la preghiera di Anna. Hai mai fatto fino ad oggi una preghiera come quella di Anna che ha cambiato la tua vita? Che ha cambiato la tua esistenza? Prova a riflettere. C'è stato qualcosa che in maniera così hai detto al Signore ed è accaduto. Non ti sei più potuto tirare indietro. O forse ti sei tirato indietro e hai visto svanire quello che Dio ti aveva dato. Anna fa una semplice preghiera e Dio le dona a Samuele. Anna prende Samuele e lo dà al Signore e Samuele diventa il profeta Samuele. La preghiera di Anna cambia il corso della storia del paese di Israele. Samuele è colui che unge il primo re. Samuele è colui che unge Davide. voglio dirti e voglio incoraggiarti a crederti che una tua chiacchierata con Dio che una tua semplice preghiera può cambiare il corso della storia. non perché lo cambio io non perché lo cambi tu ma è perché Dio che governa la storia e può darti qualcosa che se tu lo metti nelle sue mani potrà cambiare il corso della storia del nostro paese potrà cambiare il corso della storia delle nostre generazioni se io e te abbiamo il coraggio di Anna di dire Signore se tu me lo dai io te lo consacro però se facciamo un patto con Dio la scrittura consiglia che se facciamo un patto e non siamo in grado di mantenerlo è meglio non farlo perché Dio mantiene la sua parola noi dimentichiamo non è vero noi facciamo finta di dimenticare quando non ci conviene mi sono dimenticato e diventiamo anche bugiarti ma Dio non è bugiardo Dio non dimentica e manda lo Spirito Santo a rammemorarci a ricordarci a ti ricordi ti ricordi non induriamo il cuore al Signore Signore se tu vuoi quello che mi darai è tuo proviamoci vi va di provare allora vi invito ad alzarvi e a fare in questo momento ciascuno la propria preghiera silenziosa perché quando Anna andò nel Tempio pregava in maniera pregava in maniera silenziosa e il sacerdote capì una cosa per un'altra vogliamo chinare il nostro capo e vogliamo presentare al Signore coloro che sono con noi e ci hanno chiesto di pregare per loro Luigi e poi ci sono anche Mario ed Elvira che festeggiano i loro 35 anni di matrimonio e vogliamo pregare anche per loro ma in questo momento con il nostro capo chino vogliamo proferire al Signore la nostra preghiera vogliamo fare il nostro patto con Lui e gli legge i movimenti delle nostre labbra e gli ascolta i nostri pensieri in questo momento se veramente riguardi all'afflizione della Tua serva se ti ricordi di me se non mi dimentichi ebbi a pregare Anna Signore se tu riguardi a noi se non ti dimentichi di noi se ci doni quello che in questo momento ti stiamo chiedendo Signore noi ci impegniamo a consacrartelo a metterlo a Tua disposizione a metterlo a disposizione dell'opera Tua a metterlo a disposizione del Tuo regno siano cose materiali siano cose spirituali Signore ascolta in quest'ora la nostra preghiera benedetto sia il Tuo nome alleluia signore